E' Lavellino a segnare per primo, dopo l'iniziale predominio del Como, con questa rete di Lucarelli. E' il primo gol che i lariani subiscono in casa. Reagisce il Como e al ventunesimo si vede a segnare un rigore per atterramento di Matteoli da parte di Lucarelli. Ecco l'azione. Tira Müller ed è 1-1. Corneliuson ci riprova al venticinquesimo al termine di questa azione. E questa volta realizza. E' il gol della vittoria del Como. Como 2, Avellino 1.